Complimenti ad Odette Giuffrida, in uno sport che a noi italiani non è che faccia impazzire, ottiene nel judo il bronzo. Dopo che aveva perso al golden point, la possibilità di giocarsi la medaglia d'oro guadagna una medaglia di bronzo che è la quarta per l'Italia. Complimenti a lei, un modo anche per riscattare un movimento che durante gli anni non è mai protagonista, ma che alle Olimpiadi riacquista una certa rilevanza. Complimenti a lei, donna grintosa, decisa e caparbia.